Buonasera cari amici di Telemolise, ben ritrovati per l'ultima edizione del nostro telegiornale che torniamo ad aprire con la pagina politica perché slittano i tempi per la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. La Giunta infatti ha nominato un nuovo commissario al posto della dimissionaria, Evelina Gollo. Si tratta dell'attuale direttore dell'ARPA Molise, Alberto Manfredi Selvaggi e ci dice tutto in apertura pasquale di Bello. Sembrava cosa fatta, invece slitta al momento sine die, quindi ha data da destinarsi la nomina del nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria regionale. Al vertice dell'ASREM la Giunta guidata dal Presidente Roberti ha nominato un nuovo commissario. Si tratta di Alberto Manfredi Selvaggi, attualmente direttore dell'ARPA Molise, l'azienda regionale deputata ai controlli ambientali, ruolo che l'interessato continuerà a ricoprire. Alberto Manfredi Selvaggi sostituisce la dimissionaria Evelina Gollo, che da oggi è assunto il ruolo di direttore amministrativo dell'azienda sanitaria Sarda. Si tratta di un commissariamento ponte, come dice al telefono lo stesso Manfredi Selvaggi, necessario a coprire l'arco temporale necessario alla scelta del nuovo direttore generale. È proprio su questo adesso che la punteggiatura tuttavia si ferma al punto interrogativo. Quali tempi per la nomina? Manfredi Selvaggi risponde che ne è totalmente all'oscuro. L'unica cosa certa dice è che il mio sarà un ruolo temporaneo e che quindi sarà vincolato ad una gestione ordinaria dell'azienda. Per me è un onore la scelta fatta dalla regione, prosegue. Tuttavia sono ben consapevole del mio compito, traghettare l'azienda sanitaria sino alla nomina del nuovo direttore generale. Sono vacanti i ruoli di direttore sanitario e amministrativo, prosegue Manfredi Selvaggi, per i quali sono già state avviate le procedure di selezione, posizioni che al momento verranno ricoperte da dirigenti interni all'ASREM. Roberti prende quindi tempo. La nomina del vertice aziendale dell'ASREM è una cosa delicatissima, visto lo stato in cui versa la sanità molisana, è quindi necessaria una maggiore ponderazione della scelta da effettuare. Roberti ha a disposizione 13 nuovi, ma da quanto è possibile ricostruire la scelta dovrebbe limitarsi ad una terna. Si tratta di Gianluca Capochiani, attualmente direttore amministrativo dell'azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari, di Francesco Marchitelli, commissario straordinario della ASL Roma 6 e di Flavio Sensi, direttore generale della ASL 1 Sassari. E restiamo in tema di sanità perché permangono le difficoltà nel reperire personale medico. L'azienda sanitaria regionale era alla ricerca di nove pediatri da assumere a tempo indeterminato, ma al concorso su 12 candidati risultati donnei si sono presentati solo 4, di cui 3 specializzanti. La ASREM ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato per il candidato in possesso della specializzazione, mentre per gli altri 3 è stato stipulato un contratto a tempo determinato che verrà trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specialistica. Apriamo ora la pagina giudiziaria perché c'è una svolta nell'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Sulmona che indaga per omicidio colposo e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro a seguito della tragica morte di Antonio Di Lollo, l'uomo di 46 anni residente a Roccaravindola. Giovedì scorso era rimasto folgorato mentre tinteggiava la facciata di un capannone a Castel di Sangro. Tre persone figurano nel registro degli indagati e oggi pomeriggio è stata svolta anche l'autopsia sul corpo dell'uomo. Ma ci dice tutto Valeria Migliore. Sono tre gli indagati per la morte di Antonio Di Lollo, l'uomo di 46 anni residente a Roccaravindola, titolare di un'impresa di tinteggiatura, rimasto folgorato giovedì scorso mentre imbiancava il capannone di un'azienda che produce confetture e conserve di pomodori nella zona industriale di Castel di Sangro. Nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Sulmona che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e per presunte violazioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, figura il proprietario del cantiere nonché amministratore delegato dell'azienda, oltre a due figure legate al noleggio del cestello elevatore che l'operaio avrebbe utilizzato per tinteggiare la facciata del capannone, urtando poi i cavi dell'alta tensione. In mattinata il sostituto procuratore Edoardo Mariotti ha conferito l'incarico all'anatomo patologo Ildo Polidoro e nel pomeriggio è stata eseguita l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, nei prossimi giorni dunque arriverà il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari e poi lo svolgimento dei funerali. Intanto la Procura di Sulmona ha disposto una perizia anche sui mezzi utilizzati e sullo stato dei luoghi per verificare eventuali anomalie o irregolarità sul piano della sicurezza, mentre i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che si stanno occupando del caso hanno sequestrato la porzione di cantiere dove è avvenuto il tragico episodio. Verifiche sono in corso anche da parte degli ispettori dell'Aslo 1 che avevano raggiunto il luogo dell'incidente assieme ai sanitari del 118, ancora sotto sciocchi familiari della vittima che ora chiedono verità e giustizia. Cambiamo argomento e parliamo dell'incendio che ha distrutto il capannone dell'azienda agricola Desiderio a Porto Cannone. I danni sono ingenti, circa 300 mila euro. Questa mattina i proprietari hanno sporto denuncia e sono in corso le indagini dei carabinieri. Sul posto c'era per noi Andrea Nasillo. Danni ingenti, il fuoco ha distrutto un capannone e la serra dell'azienda Desiderio di Porto Cannone un incendio molto probabilmente di matrice dolosa. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un terreno vicino e nell'arco di pochi istanti alimentate dal vento hanno raggiunto la struttura. Mi hanno avvisato già quando il fuoco era in atto, era verso 17 quando mi hanno avvisato però quando sono venuto qua era già andato tutto. Prima di tutto la struttura, un capannone che sta lì da 51 anni quindi fatto bene come si deve e poi tutto quello che c'era dentro. Avevamo attrezzi agricoli, carri, imballaggi, pezzi di ricambio, tantissimo materiale per l'irrigazione, insomma c'era tanta roba. Io una stima così l'ho fatta stamattina, siamo per difetto intorno ai 300 mila euro di danno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere l'incendio ma per gli impianti di irrigazione e gli attrezzi agricoli che erano conservati all'interno del capannone non c'è stato nulla da fare. Ogni anno quando si apre la caccia nel basso Molise ci sono gli incendi, sempre, è una prassi. Non vedo il dolo, no non vedo il dolo, assolutamente no, anche perché non credo che ci siano persone che ci vogliano del male, siamo qui da tanti anni e non è mai successo. Quindi è stato, secondo me è stato un atto di imprudenza, calcolato male insomma. Il piromane secondo me ha sbagliato i calcoli perché c'era questo vento che tira oggi, vento da nord, meno forte però c'era, avranno dato fuoco vicino al fiume e il vento l'ha aiutato e è venuto verso l'azienda. Vanno avanti le indagini da parte del nucleo investigativo antincendio del 115 e dei carabinieri per l'azienda Desiderio che si occupa anche di coltivazioni biologiche, un brutto colpo anche in assenza di assicurazione in un'annata già messa a dura prova dalla Peronospora. È di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale accaduto questa notte lungo la Trignena nella galleria in territorio di Civitanova del Sannio, un ragazzo di vent'anni ha improvvisamente perso il controllo della propria auto che si è ribaltata e poi è finita contro il muro. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Torniamo a parlare di giudiziaria perché si avvia alla fase finale il processo per l'omicidio di Romina De Cesare. Le udienze dopo la pausa estiva riprenderanno la prossima settimana per ascoltare gli ultimi testimoni. La sentenza è prevista entro la fine dell'anno. Sentiamo ancora Valeria Migliore. È al rush finale il processo per l'omicidio di Romina De Cesare. La giovane 36enne di Cerro al Volturno, uccisa con 14 coltellate dal suo ex fidanzato Pietro Ialongo, nell'appartamento di Via del Plebiscito a Frosinone, dove la donna continuava a vivere con lui nonostante non fossero più una coppia. Dopo la pausa estiva la prossima settimana riprenderà il processo. La sesta udienza è fissata per giovedì 14 settembre. Fino allo scorso luglio sono stati sentiti tutti i testimoni dell'accusa, a partire da Mario, il papà di Romina. L'uomo ha riferito che negli ultimi tempi la figlia si sentiva minacciata dall'ex compagno. A confermarlo poco dopo è arrivata anche la testimonianza della proprietaria dell'abitazione in cui la giovane 36enne è stata uccisa. Mi ha chiesto se avessi disponibilità di un altro appartamento, ha raccontato la donna, perché aveva paura di tornare a casa. Davanti ai giudici, anche Davide Cittadini, la guardia giurata che Romina aveva da poco iniziato a frequentare, ha raccontato che Ia Longo li pedinava, la tormentava al telefono, la infastidiva fino a quando lei tornava a casa. In aula anche Alessia, una collega di Romina, è stata proprio l'amica a raccontare di come Romina fosse lacerata dal tormento, di quanto la ferissero quei messaggi nei quali l'ex fidanzato la offendeva continuamente. Esauriti i testimoni dell'accusa verranno ora ascoltati quelli della difesa, una decina. Poi nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone sfileranno anche i testi di parte civile. È dunque alle battute finali la fase dibattimentale che si chiuderà il prossimo 5 ottobre. È stata già fissata anche la fase di discussione, inizierà il 9 novembre quando la procura farà la sua richiesta di condanna per Ia Longo. Dopo la parola passerà agli avvocati della difesa, non si esclude la richiesta di una perizia psichiatrica da parte del legale di Ia Longo, Vincenzo Mercolino. Entro fine anno potrebbe dunque arrivare la sentenza. E continuano le scorribande dei ladri nelle frazioni di Isernia. La notte scorsa diversi tentativi di furto sono stati segnalati a Colle Marino. I malviventi hanno tentato di introdursi nelle abitazioni attraverso i balconi ma i rumori hanno messo in allarme i proprietari. Una volta scoperti i ladri si sono dati alla fuga dell'accaduto, sono state informate le forze dell'ordine. Presiduta dal presidente Quintino Pallante si è svolta in mattinata alla conferenza dei presidenti dei gruppi consigliari alla Regione. Pallante ha informato il capigruppo dell'avvenuta approvazione in commissione delle modifiche richieste dalla Corte dei Conti ai rendiconti generali della Regione per gli anni 2019-2021 e della richiesta del presidente della Regione Francesco Roberti di trattare in Consiglio regionale la proposta di legge nel più breve tempo possibile. È stato quindi deciso di tenere la riunione a Palazzo Daimmo venerdì prossimo alle 10.00. Sempre il presidente Pallante ha poi proposto e ottenuto la fissazione per un giorno a settimana distinto dalle sedute dell'Assemblea il lunedì nel quale di norma i capigruppo possano incontrare i cittadini, le associazioni, i lavoratori, le organizzazioni e i portatori di interesse che ne facciano richiesta. I tempi sono cambiati, ho quindi condiviso l'idea di vendere l'ex hotel Roxy all'epoca acquistato dalla mia amministrazione. A dirlo è l'attuale assessore regionale Michele Iorio e lo ha intervistato per noi Pasquale Di Bello. Passati 13 anni da allora, ma Michele Iorio, presidente della Regione all'epoca dei fatti, rivendica la bontà di quella scelta. Stiamo parlando dell'ex hotel Roxy di Campobasso acquistato nel 2010 proprio dall'amministrazione Iorio. Quali furono i motivi di quella scelta? Furono quelli di offrire a questa città, la città di Campobasso e alla Regione stessa in termini di funzionalità una sede unica, perché la Regione come tutti sanno era all'epoca ancora più dispersa all'interno della città. Fu una scelta meditata, ragionata, sulla base di un progetto ambizioso che era la costruzione della sede unica utilizzando anche parte del Romagnoli, almeno la parte prospiciente, la stessa struttura del Roxy. E quindi credo che l'idea fosse assolutamente condivisibile e poteva essere portata avanti con una buona disponibilità di ricercare sul mercato, non solo, ma soprattutto di cercare i fondi pubblici per poterla realizzare. Tempo ne è passato da allora, le condizioni si sono modificate, le esigenze per la nuova sede regionale sono diventate altre. Ho quindi condiviso la scelta di alienare l'immobile, dice Iorio. La Regione effettivamente ha un bisogno ridotto rispetto a prima, anche perché ha ridotto il proprio personale e credo che anche le funzioni siano state accorpate. Molte funzioni sono state accorpate. Probabilmente quella sede oggi può essere tranquillamente utilizzata per altro scopo, che abbia sicuramente un indirizzo pubblico, perché questo era l'obiettivo. Alle spalle di questa sede la Regione potrà costruire anche la sua sede unica. E quindi il discorso a me è sembrato condivisibile e l'ho condiviso proprio per queste ragioni. Bisogna assolutamente velocizzare l'utilizzo di quella struttura, eliminare l'obrobrio che è all'interno della città di Campobasso e risolvere anche il problema della sede unica della Regione, che è un'altra necessità. Sulla vicenda si sono già avute le prime reazioni da parte del PD al Comune di Campobasso e da parte del Movimento 5 Stelle in Regione. Giose Trivisonno, capogruppo PD al Comune, ha annunciato una mozione tesa a disinnescare l'iniziativa regionale, mentre Roberto Gravina, consigliere regionale pentastellato, ha annunciato sul tema una interrogazione urgente al presidente Roberti. Voglio una vita spericolata, cantava Vasco Rossi pensando a Roxy Bar, chissà cosa avrebbe scritto se avesse conosciuto la storia e la sorte del Roxy Hotel. E mentre la questione dell'ex hotel Roxy torna di attualità per la messa in vendita, l'area al centro di Campobasso resta in stato di abbandono. Da ormai almeno 15 anni nell'edificio regna il degrado e i residenti sono esasperati. Ora tornano a chiedere almeno una bonifica sul posto, è andata per noi Anna Maria Di Matteo. È stato per anni uno dei simboli di Campobasso, luogo di ritrovo dei cosiddetti VIP, dei politici che li organizzavano incontri pubblici. Oggi resta ancora un simbolo, sì, ma del degrado e dell'abbandono. L'ex hotel Roxy è un monumento all'incuria che indigna, l'ingresso sbarrato per evitare che qualcuno possa entrare, come è accaduto già in passato, provocando anche un principio di incendio. Lo spettacolo che si presenta ai passanti è a dir poco desolante. I residenti da anni chiedono che lo stabile venga bonificato, ripulito dei cumuli di rifiuti che si sono accumulati e soprattutto sollecitano interventi che diano nuova vita ad una struttura che si trova su una zona strategica della città. L'importante è che si ripulisce la zona, perché qui è una vergogna. Io vedo che gente che viene da fuori, a Corpus Domini specialmente, che viene molta gente di Campobasso, la Cinepresi fotografavano e tutti facevano dei commenti. Quindi se la regione lo fa non basta che ringraziare, almeno stiamo in mezzo all'ordine, alla pulizia. Voi che vedete qua? Voi abitate qui vicino, quindi vedete... E' una vergogna, guarda, è inutile. Se dico una vergogna vuol dire che c'è di tutto e di più. La città va tenuta in un certo modo. Io vedo per esempio che adesso come pulizia, in particolare modo, Campobasso è pulita. Questa parte qui non sono io a giudicare. Voglio dare anche il mio parere, però è tutta la cittadinanza che sta reclamando. Io che ne penso? Penso che dovrebbe essere abbattuto e farci una bella villetta. Io poi abito, cioè ho la facciata, la faccio di qua, quindi... Che vede? Penso che si dovrebbe abbattere, poi è chiaro che... Dispiace, insomma lei abita qui da molti anni, quindi si ricorda quando... Da molti anni, perché poi ci abitavano i miei genitori, quindi... Ci abito da molto. Siccome poi a Campobasso non è che ci sono tanti punti verdi, una villetta magari, non lo so, perché un altro palazzo, insomma, già ce ne sono parecchi in giro. Io ci farei gli appartamenti, ci farei qualcosa per chi ha bisogno, oppure un parco verde per i ragazzini che magari possono giocare. Quindi secondo lei se lo abbattono, lo vendono a qualcuno che vuole fare appartamenti, un altro palazzone, lei non sarebbe d'accordo? No. Io dico che c'è tanta gente che ha bisogno di dormire in qualche posto sicuro. Che pensa di questa situazione? Lei passa spesso qui, che cosa pensa? Veramente a me fa paura passare qui d'inverno. Perché? E perché lo vedevo lì isolato, tutto buio, e anche mi dispiace vederlo così. Quindi lo Stato italiano, i politici dovrebbero fare qualcosa di bello in questa città, perché ancora è una città piacevole. E ora parliamo dell'avvicendamento al vertice di Molise Acqua. La Giunta regionale ha infatti nominato l'Avvocato Stefano Sabatini e si tratta di un ritorno nel corso della precedente gestione. Infatti c'era proprio Sabatini quando sono partiti i lavori dell'Acquedotto Molise Centrale, opera strategica per la regione. Sentiamo. Avvicendamento al vertice di Molise Acqua. Giuseppe Santone, nominato dall'ex presidente Toma, la Giunta Roberti ha provveduto alla sostituzione con l'Avvocato Stefano Sabatini. Per l'interessato si tratta di un ritorno, avendo già egli ricoperto tale incarico ai tempi del governo Iorio. Fu proprio in quegli anni che l'amministrazione Sabatini dette il via ad una delle opere più importanti per la regione Molise, l'Acquedotto Molise Centrale. Proprio l'esperienza maturata sul campo è stata uno degli elementi che hanno portato alla scelta di Sabatini. Tanto volevo ringraziare il presidente Francesco Roberti per questa manifestazione di fiducia nei miei confronti. Io farò di tutto per non deludere le aspettative. Ringrazio anche la Giunta regionale. Sì, in effetti credo che in questa decisione abbia pesato la circostanza che durante il periodo della mia passata gestione sono state poste le basi per la realizzazione possiamo dire di una delle opere più importanti del Molise in generale che è l'Acquedotto Molisano Centrale. È grazie all'Acquedotto Molise Centrale che il Basso Molise in particolare può usufruire di una delle acque più pregiate in assoluto, quella delle sorgenti del Matese, una risorsa, spiega Sabatini, della quale beneficia un bacino di utenza di un milione di persone coinvolgendo, oltre al Molise, anche altre regioni. La cosa particolare è che molti cittadini del Basso Molise, perché quest'opera interessa particolarmente loro, non sanno che già dall'anno 2019 quest'opera è stata completata, è entrata in funzione e quindi loro non utilizzano più l'acqua del Lago del Liscione, ma utilizzano l'acqua del Matese Molisano, che è organoletticamente l'acqua migliore d'Europa. Quello che molti molisani non sanno, e io vorrei cercare in questo mio mandato anche di dare un'opera di informazione su questo, è che Molise Acque non serve solo i comuni molisani, ma anche i comuni campani, pugliesi e abruzzesi. Quindi c'è un bacino di utenza veramente enorme, parliamo di un milione di abitanti, e molti non sanno che l'acqua molisana arriva addirittura a Napoli, e addirittura all'isola di Capri. Nell'immediato futuro per Sabatini è importante consolidare il rapporto con i comuni, in maniera tale da sviluppare una collaborazione che possa migliorare rete e servizio idrico. Mi stanno già telefonando in questi giorni molti sindaci, che chiedono aiuto per la realizzazione di una serie di allacci e di opere che sono rimasti incompiuti. I nostri clienti, tra virgolette, sono i comuni, quindi noi dobbiamo ascoltare le istanze dei sindaci molisani, perché loro conoscono le problematiche dei loro comuni. Dobbiamo correre in loro aiuto, non soltanto per la realizzazione di opere, ma anche per risolvere, per quanto possibile, l'annoso problema delle perdite delle condotte comunali. Negli ultimi dieci anni la contrazione della popolazione giovanile italiana tra i 15 e i 34 anni ha interessato in particolar modo il mezzogiorno e quanto emerge da un'elaborazione dell'ufficio studi della CGA in Molise. Si è registrato un calo del 17,5% tra i più marcati d'Italia, preceduto solo da Calabria e Sardegna. Dal 2013 al 2023 in regione la popolazione giovanile è diminuita di 12.353 unità, passando da 70.692 a 58.339. A livello provinciale la realtà che negli ultimi dieci anni ha registrato la diminuzione più imponente è stata la provincia di Isernia. E ora ci spostiamo a Termoli dove le barche sono bloccate in porto per il fermo biologico, ma il settore resta in fermento. Da un lato la possibilità per le imprese della pesca di ottenere incentivi per l'innovazione, dall'altro la proliferazione del granchio blu dell'Adriatico che sta mettendo a rischio l'ecosistema marino e su cui le associazioni di categoria chiedono misure da stato di emergenza. Sentiamo ancora Andrea Nasillo. Ancora poco più di due settimane i pescherecci della marineria termolese torneranno in mare. Il fermo biologico permette alle specie di riprodursi, ma il settore resta comunque in fermento e se da un lato l'aumento vertiginoso del costo del gasolio preoccupa, dall'altro qualche opportunità per il comparto si presenta in termini di innovazione. I Ministeri dell'Agricoltura e dell'Economia hanno approvato un decreto che incentiva i progetti innovativi delle imprese di agricoltura, pesca e acquacoltura. Questa opportunità mira a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione per incrementare la produttività attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristiche, di piattaforme e infrastrutture 4.0 per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. Tra le possibilità, quella di acquistare attrezzature che potranno ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra, nonché ad aumentare l'efficienza energetica dei peschereggi. Le insidie però per il settore ittico sono sempre dietro l'angolo. La proliferazione selvaggia del granchio blu nell'Adriatico sta mettendo a rischio la tutela dell'ecosistema marino. Su questo è intervenuto anche il Governo con quasi 3 milioni di euro per le associazioni di categoria, bene il decreto attuativo, ma occorre intensificare catture e misure da stato di emergenza. Queste somme rischiano di essere largamente insufficienti. Torniamo alla cronaca, perché una strana pianta che spuntava dal balcone di un'abitazione di Sernia non è sfuggita all'occhio dei carabinieri. rintracciato il proprietario è stata eseguita una perquisizione in abitazione. Si trattava di una pianta di cannabis alta un metro e venti centimetri, trovati nell'appartamento anche otto grammi di marihuana, confezionati in due bustine, un paio di trita erba e un bilancino di precisione. Il proprietario è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti non destinate a uso personale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l'ammissione ai corsi di laurea, le professioni sanitarie e al nuovo corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche è stato prorogato a mezzogiorno di giovedì prossimo 7 settembre. Lo rende noto l'Università del Molise. La decisione assulta fa sapere Unimoli in considerazione della temporanea sospensione dei servizi erogati in rete dall'Ateneo nella giornata di venerdì scorso, primo settembre, che ha reso di fatto impossibile l'accesso al portale dello studente e di conseguenza l'iscrizione alle selezioni. E adesso ci spostiamo alla comunità terapeutica la Valle di Toro, dove da qualche mese è stata avviata una nuova attività, un laboratorio d'arte per gli ospiti della struttura. Sentiamo Enzo Luongo. È l'ultima di tante iniziative che in 34 anni di vita sono state realizzate all'interno della comunità terapeutica la Valle di Toro, un luogo che ha dato una nuova opportunità a centinaia di persone incappate nella loro vita in momenti difficili come la droga e il carcere. Gli ospiti della comunità negli ultimi mesi sono potuti andare a lezione di arte con un laboratorio guidato da Antonio Di Maria, artista e scultore molisano. Padreino qualche tempo fa mi ha chiesto se c'era la possibilità di iniziare un laboratorio per gli ospiti e io sono stato molto d'accordo perché comunque poi lo conosco da tanto tempo e insegnare a qualcuno che comunque ha bisogno anche di riprendere un pochettino in mano la vita per me è stata una grande gioia aver accettato questa richiesta di Patrelino e quindi diciamo che stiamo facendo questo. Che risposta avete avuto? Sinceramente sono rimasto meravigliato perché dopo di sei mesi vedere queste opere realizzate da quei ragazzi là mi ha dato una grandissima gioia e sono soddisfattissimo del percorso che stiamo facendo. Di che tipo di lavori si tratta? È un mosaico per adesso abbiamo iniziato a fare un pochettino di mosaico diciamo un po' più geometrico durante diciamo così già in cantiere qualcuno o qualche ragazzo che ha più predisposizione stiamo facendo anche qualche cosa un po' più artistico perché ovviamente tra gli ospiti c'è anche persone che hanno fatto il liceo artistico insomma ragazzi di qualsiasi ceto sociale e comunque stiamo cercando di tirare fuori da ognuno di loro quello che sono le proprie caratteristiche le proprie possibilità e il tutto di quello che possono fare insomma. In chiusura parliamo del doppio appuntamento per l'orchestra sinfonica del Molise con la produzione L'orchestra incontra il territorio domani alle 20 si esibirà il Teatro Savoia di Campobasso mentre dopo domani 6 settembre alle 21 e 30 si sposterà a Capracotta nella chiesa di Santa Maria Assunta in cielo dove aprirà le celebrazioni triennali in onore della Madonna di Loreto il programma prevede anche musiche di Verdi e Beethoven dirigerà entrambe le serate il maestro Michele Cennarelli Era l'ultima notizia termina qui l'ultima edizione del nostro telegiornale vi saluto come sempre ringraziandovi perché scegliete Telemolise buonanotte 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 Grazie a tutti